Essere qui a Teramo per festeggiare gli 80 anni di un'istituzione come l'Istituto Zoo Profilatto, cosa significa? Ancora una volta la musica serve anche per queste situazioni che sono così importanti e così importanti per la popolazione, per le persone. La musica serve anche e soprattutto in un momento come questo? Ma assolutamente, anzi dirò di più che stare un anno e mezzo senza, senza la musica ma senza anche una mostra, senza della prosa, è stata secondo me la cosa più sbagliata che si potesse fare perché questo è proprio alimento per l'anima, insomma invece di riempirci soltanto la pancia che va bene, ma insomma dovremmo ogni tanto anche pensare ad alimentare il nostro spirito, la nostra anima. La musica è fondamentale anche perché è la più immediata, è quella che arriva subito. Il vostro mondo quando è stato penalizzato da questa pandemia? Parecchio, non ho lavorato per un anno e mezzo, quindi siamo stati a casa e quindi non solo col disagio economico ovviamente, perché poi insomma di artisti che non hanno bisogno ce ne sono proprio, si contano su una mano sola. Tutti gli altri hanno bisogno di lavorare ma non è solo un problema economico, anche un problema di non riuscire più a stare a casa a un certo punto perché ti mancano i viaggi, ti mancano gli incontri, gli spostamenti, fare la valigia, disfarla. Insomma è la nostra vita, quando tu sei in giro per 43 anni e poi improvvisamente ti dicono che non puoi più fare niente, ci rimani un po' male. Ma è normale, era giusto che fosse così per carità, però io avrei come dire, meditato su altre cose per fare in modo che la gente potesse ristorarsi o trovare un po' di conforto da una musica, da una mostra, da una bella commedia. Che ne sono, insomma c'erano i modi, credo e anzi ne sono certo.